buonasera a tutti vediamo la classifica della zenefex trading cap vediamo partiamo dalla classifica gain equity primo posto della classifica gain equity massimo mondo secondo posto gian pietro beltrando a corta distanza vediamo massimo mondo 67,80 per cento gian troppo altrando 65,61 per cento e terzo posto fabrizio alessandro 34,79 per cento vediamo anche gli ultimi posti di questa classifica troviamo david pascucci un tempo primo classificato ora ultimo meno 98,50 per cento secondo dalla fine lorenzo ferrari anche lui era stato in testa ora almeno 98,40 per cento e terzo ultimo gaetano spina meno 96,58 per cento questo per quanto riguarda la classifica gain equity andiamo a vedere anche il my facebook di massimo mondo a vedere cosa su cosa opera massimo allora andiamo nelle operazioni chiuse vediamo che opera ha operato come numero di trade principalmente sul petrolio 185 trade sul petrolio però però un po di tutto per anche l'oro il forex indici quindi un po di tutto massimo mondo che attualmente ricordo è al primo posto della classifica gain equity vediamo anche la seconda classifica la classifica gain drawdown del rapporto tra gain e drawdown si conferma ancora al primo posto alessandro attems con punteggio 6,62 parecchio di staccato al secondo posto fabrizio alessandro 3,19 e terzo classificato flavio ferrara 2,82 vediamo anche gli ultimi di questa classifica ultimo posto per giuseppe ferrara meno 1,08 seguito da massimiliano filippi secondo dalla fine dunque meno 0,99 in realtà il secondo posto viene conteso da parecchi partecipanti la parità di punteggio troviamo massimiliano filippi pietro pacello gaetano spina lorenzo ferrari e david pascucci e subito dopo terzo ultimo se vogliamo stefano zoppi meno 0,95 vediamo anche un po i numeri per quanto riguarda il numero di traders di di formatori in profitto perché ricordiamo che questo è un contest demo tra formatori professionisti 22 attualmente sono i formatori in profitto dunque 23 sono quelli che stanno invece avendo una perdita per un totale di 45 partecipanti quindi il numero di perdenti supera il numero di profittevoli per quanto riguarda l'equity totale quindi se prendiamo l'equity di tutti e 45 partecipanti erano tutti partiti con 10.000 quindi 450.000 iniziali attualmente l'equity si trova a 371.000 quindi un drawdown del 18% mancano meno di due mesi un mese e mezzo alla fine di questa sfida a breve vi faremo anche vedere le coppe che abbiamo scelto sperando che siano di vostro gradimento e chissà a chi le consegneremo grazie e buona serata a tutti